Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Banale dirvi che prima o poi ve l'avrei portato sul canale, come vedete è la nuova edizione di HeroQuest a cura di Hasbro ed Avalon Hill e gentilmente offertoci dal nostro negozio sponsor, ma tanto ve lo ricordo nel corso del video, Gioco Libri di Asimola ed è la nuova versione di HeroQuest che stavamo aspettando da tantissimo tempo e vi ricordo che questo video qui, preciso, sarà soltanto un unboxing mentre invece domenica prossima o al più tardi lunedì uscirà il video Similitudine dove vi farò vedere questa nuova versione accanto a quella vecchia facendovi vedere miniature, carte, contenuti e quant'altro per fare un po' un paragone. E ora, unboxing. Come vedete la scatola del gioco noi l'abbiamo ordinato in versione inglese perché ho anche Space Crusade, Star Quest in inglese, ho detto prendo anche HeroQuest, ma perché non ho problemi con l'inglese quindi va bene anche per le carte, sono scritte molto semplicemente. Vedete il logo e anche il disegno che per quanto è questa volta in chiave più moderna e ci voleva un po' di svecchiamento è lo stesso identico della vecchia versione della Milton Bradley. E la scatola, guardate là, cioè la scatola è veramente bella spessa perché all'interno c'è un sacco di cose che vi faccio vedere. Qua dentro troviamo tutte quante le componenti del gioco che sono i vecchi, la vecchia mobilia quello che poi non ha nessuna utilità a scopi di gioco perché a parte le porte sia che ovviamente sanno a farvi identificare porta aperta o porta chiusa, sono soltanto per abbellimento. E sono stati riprodotti questa volta in plastica non particolarmente dura, come vedete questa qui l'antica tomba se vi ricordate del Cavaliere che tra l'altro anche come nella vecchia versione si poteva aprire e a differenza di quello vecchio, poi tanto alla similitudine nel prossimo video una parte prima era in plastica e l'altra parte era in cartone. Invece questa volta è tutta completamente in plastica per quanto è una plastica molto morbida, eh non è una plastica durissima, si muove, è veramente abbastanza malleabile quindi fate attenzione perché non so quanto possa essere resistente una plastica del genere e qui ad esempio vedete la vecchia mobilia, che questo qui è uno scaffale e poi ci sono tutti gli altri pezzi, gli scrigni, la rastrelliera delle armi, tavolino, scranno come vedete, vabbè, il trono, strumenti di tortura e quant'altro qui ci sono le schede, che vi ricordo ancora una volta, sono nella versione inglese che sono le schede dove potete scrivere i vari avanzamenti del personaggio il nome, ovviamente il nome del vostro personaggio il tipo di personaggio, quindi il barbero, il nano e cose del genere attack dice, defense dice che vanno a salire inizialmente sono quelli scritti sulla scheda ma poi vanno a salire i punti vita, i punti mente e quant'altro e poi come vedete anche tutti quanti i punti che andete a guadagnare durante l'avventura e gli equipaggiamenti e ce n'è veramente tantissime, ce ne sono tantissime quindi non avete manco bisogno di stamparvele queste vi bastano per un anno e più di gioco anche perché se decidete di andare avanti e tenere sempre lo stesso personaggio la scheda è sempre questa, non è che dovete rifarla abbiamo tutte quante le carte di gioco che sono qua, tutti i mazzi che sono mostri, mostrerranti, tesori e anche i personaggi ovviamente il disegno è stato tenuto nello stile bianco e nero anni 80 però comunque anche i disegni sono stati tutti quanti rifatti le carte sono le stesse, le stesse, identiche quindi sono le stesse carte di quello vecchio non c'è nemmeno mezza carta nuova nel mezzo e andando qua giù in fondo forse sono rimasto un po' più in basso vi faccio vedere le schede dei personaggi le schede dei mostri in questo caso sono i Dread Warrior che sono i vecchi guerrieri del caos che non li possono più chiamare guerrieri del caos perché è proprietà della Games Workshop e hanno tolto, se vi ricordate, i vecchi Femir e hanno fatto le abominazioni gli abomini che sono questi qui tipo sembrano d'agoniani delle profondità e cose del genere poi tutti gli artimorsi sono sempre gli stessi e si arriva ai personaggi tipo il barbaro che vi ricordate aveva 3 di attacco e 2 di difesa 8 punti feriti ovviamente tantissimi e l'equipaggiamento di partenza i dadi che va a tirare e tutto quanto il nano l'elfa che questa volta è un personaggio femminile e il mago come vedete il wizard in più ci sono anche cartine riassuntive del turno e delle azioni e poi tutti quanti i mostri personaggi mantenendo i colori della plastica della versione originale quindi abbiamo i guerrieri del caos che ora sono i Dread Warrior questi qua al posto dei Femir ci sono gli abomini delle profondità il vecchio e cattivo Gargoyle poi abbiamo gli orchi questa mi è piaciuta in versione maschile o anche femminile ci sono orchi maschi e femmina che ora poi vi dico anche un'altra cosa i nostri personaggi che sono quelli rossi il barbaro il nano l'elfa e il mago i dadi di Iro questa che sono stati anche questi ridisegnati lo stile è quello però l'hanno un pochino mettiamo così svecchiati i due dadi rossi che servivano unicamente per muoversi e poi vedete qui ci sono gli scheletri che anche qui una cosa che ho apprezzato è che ci sono scheletri donna e scheletri vabbè scheletri donna insomma hanno un pochino più di forme mettiamola così e gli scheletri normali di un tempo i goblini e le mummie e questo qui è il contenuto per quanto riguarda le miniature il barbaro che come vedete la spada ha preso un po' vento perché ve lo dite è plastica veramente leggerissima guardate là e tra l'altro beh molto bello anche la posa mi garba è tutto per toglierlo dalla plastica di qui dentro abbiamo rischiato di spaccarlo quindi consiglio spensierato io leverei tutte le miniature che ci sono qui dentro e le metterei da un'altra parte perché cioè guardate ve lo faccio vedere per levarne una vado a prendere qualcosa cioè guardate quanto c'è da tirare e si rischia anche di romperla perché ci sono veramente incastrate da paura come vedete la qualità è veramente fatta bene perché non si può dire assolutamente niente cercando di mantenere lo stile delle miniature del primo hero questa dell'MB sono veramente veramente fatte da paura e poi vi faccio vedere quello che al tempo era quello più bello e anche iconico che era il guerriero del caos il Dread Warrior che guardate è veramente spettacolo come l'hanno rifatto poi ovviamente sono gusti lo stile può piacere o no ricorda forse un po' troppo cartunesco un pochino più zombie sai dei cose del genere però comunque le miniature è in dubbio dire che la qualità è veramente alta il tabellone che è lo stesso identico spiccicato copia e colla di quello vecchio l'unica cosa devo essere sincero è un po' troppo leggero il cartoncino dove l'hanno fatto quello vecchio era più resistente questo è un po' più leggero vabbè accortezza fateci un po' di attenzione uguale lo stesso stesso identico spiccicato lo schermo del narratore del Dungeon Master che è lo stile di quello vecchio ovviamente rivisto in chiave un pochino più moderna e dietro come in tutti gli schemi del Master di giochi di ruolo da cui venne anche questo fondamentalmente prima edizione di D&D abbiamo tutte le caratteristiche come vedete il movimento delle creature e poi anche il sunto delle regole eroi, mostri e quant'altro quindi questo serve per coprire le mappe di gioco al Dungeon Master ma allo stesso modo anche per avere tutto a portata di mano poi abbiamo il Quest Book che è il libro delle missioni che inizialmente e mia moglie abbiamo avuto paura perché pensavamo che non ci fosse e che il gioco fosse tutto guidato da app e invece non è così spettacolo c'è la mappa direttamente e come vedete ora non vi faccio spoiler perché se le giocate magari non le volete vedere però c'è scritto tutto tutta la missione tutte le peculiarità della missione dove si trovano mostri e quant'altro il rulebook quindi il libro dell'Heroquest Game System con tutte quante le regole questa volta sembra talmente grosso e cicciotto che fa paura dicono finalmente hanno messo delle regole in più no il gioco non ha nessuna regola in più è Heroquest normalissimo però ovviamente l'hanno fatto un pochino più espanso per far vedere anche i mostri hanno messo un po' di lore vedete un po' di storie cosa che io effettivamente apprezzo ci voleva un pochino di lore sull'ambientazione e per concludere tutte quante quelle parti fatte in cartoncino ovviamente non hanno fatte in 3D era inutile tipo i macigni che bloccano la strada e che cadono la classica botola se vi ricordate trappole teschi scale e quant'altro questi sono tutti quanti quei pezzi che vi servono come vedete invece dalla parte di qua ci sono altre cose scale che vanno a salire e scendere e tutti i vari pezzi porta segreta che vi servono appunto per la vostra missione in conclusione questa era l'unboxing della nuova versione di Heroquest che voglio farci un video cosa ne penso similitudine con l'altro quindi il voto ve lo darò alla fine vi posso anticipare che ne sono rimasto soddisfatto in parte però comunque comunque è un titolo per tutti coloro che non hanno il vecchio Heroquest che non devono assolutamente perdere perché questo è in assoluto il padre dei dungeon crawler nel vero senso della parola e poi ristampano anche tutte le espansioni tutte quindi quelle vecchie che hai trovato il tizio io ce l'ho ma te la vendo a 300 250 300 euro compratevela a 30 40 che la trovate le stanno ristampando quindi al tizio che ve la vende a 300 euro andate a dire tienitela direttamente non ho bisogno di comprartela a quel prezzo vi ricordo ma ve lo ricorderò anche nel prossimo video se lo volete ordinare primo link in descrizione e in sovraimpressione dalla gioco libreria semola nostro negozio sponsor al miglior prezzo sul mercato ricordatevi sempre per tutti gli acquisti usate sempre il codice discount cordian 7 per avere uno sconto del 7% e per spese superiori ai 79 euro spese postali corriere gratuito in tutta Europa isole comprese anche fuori Italia fuori nazione l'ordinate in massimo 48 ore arriva a casa e se andate sul sito c'è però se andate sul sito ed è finito catalogo esaurite scorte oppure non c'è più perché è stato rimosso dal catalogo o non c'è mai stato scrivete al supporto a Corrado al proprietario della giocola libreria semola e diteli arrivo dal canale di Coridan non ce l'hai o ce l'hai finito si potrebbe avere comunque lui farà il possibile per trovarvelo al miglior prezzo e usate il codice sconto discount Coridan 7 mi raccomando c'è anche la versione italiana sono io un feticista di queste cose che l'ho voluto in inglese l'ho preferito in inglese per vari motivi miei perché c'ho anche star quest in inglese lo volevo in inglese non so perché mi sveglio con queste idee però è totalmente tradotto in italiano quindi lo potete ordinare tranquillamente in italiano ragazzi ve l'ho detto quello che ne penso poi la prossima volta ma più o meno si capirà ciao alla prossima